Buongiorno a tutti, buongiorno sono le 7.09 di oggi mercoledì 10 gennaio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano qui in diretta su Crystal Radio, su Milano News potete vederci sia su Facebook che su Twitch che su YouTube, ma come ripeto, come vi ho appena detto, l'importante è se siete in giro nella nostra città, sintonizzate le vostre autoradio su Crystal Radio oppure sintonizzate i vostri smart speakers su Crystal Radio, perché anche lì basta dire Alexa, ok in questo momento avrò sicuramente acceso, spento qualche luce in qualche casa, buongiorno a tutti, io sono Fabio Ranfi, sono qui appunto per portarvi, traghettarvi in questa mattinata verso le vostre avventure quotidiane, lo studio, il lavoro, cercheremo appunto di andare insieme incontro a questa giornata 10 gennaio, mercoledì metà della settimana, il giorno collina, il giorno collinetta, poi si scollina, no? Verso la pomeriggio sul collina e poi domani è già giovedì e siamo pronti per il weekend, se pensiamo così magari arriva anche prima, no? Cioè dobbiamo immaginarci che la settimana è sempre un po' più, un chino più corta di quello che è in realtà, no? Così poi riusciamo ad affrontarla al meglio dei modi. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, questo è il nostro numero di Whatsapp, oggi ho bisogno di voi, sapete, questa mattina sarò solo la conduzione di questo programma, due ore insieme, ho bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, Crystal Radio, good morning Milano! Sfera e basta con Elodie anche stasera, bentornati a Good morning Milano, ben ritrovati a tutti quelli che si sono collegati solo in questo istante, oggi appunto dicevo mercoledì 10 gennaio, mercoledì 10 gennaio che cosa ci racconta questo giorno? Allora, il futuro è Sant'Aldo e anche San Giovanni, quindi pensate un po', oggi Aldo, Giovanni e Giacomo fanno in due l'onomastico, perché è Sant'Aldo e San Giovanni insieme, quindi va bene, non c'è Giacomo, no, Giacomo non c'è, mi spiace, è l'unico che non festeggerà quest'oggi. La cosa interessante di oggi, nel 1863, cioè 161 anni fa, veniva inaugurata la Metropolitana di Londra, la prima linea, la North Metropolitan Railway, viene inaugurata in quel di Londra, dopo 161 anni siamo ancora qui ad aspettare invece i completamenti dei lavori della M4, quindi insomma 160 anni e abbiamo imparato poco. No, dicono così, l'assessore Censi nei giorni scorsi ha voluto ricordare che appunto verso la fine dell'anno, entro il fine del 2024, finalmente tutta la M4, tutta la M4 sarà inaugurata, sarà aperta e quindi si potrà andare da San Cristoforo a Linate in meno di mezz'ora. Nati oggi Francesca Piccinini, ricordate quella che giocava a pallavolo? Ecco sì, proprio lei, 45 anni fa, 45 anni portati egregiamente, scudetti vinti dal 2016 al 2017, Supercoppe, Coppe Italia del 17-18, 18-19, insomma tantissime le coppe che ha vinto. Invece, chi è scomparso oggi? Beh, un'icona della moda, del design, del fashion adesso diremmo, Coco Chanel. Coco Chanel, 53 anni fa, muore appunto nel 1971, Coco Chanel al secolo, Gabriel Bener Chanel, ecco questo era il suo vero nome, ricordiamo, con lei che poi inventò lo Chanel numero 5, non so, un'idea sua, ma credo proprio di sì, ricordiamo, no, Mary Di Moreau che diceva che andava a dormire solo con due gocce di Crocco di Chanel, numero 5. Mercoledì quindi, mercoledì giornata collinetta, come vi dicevo, giornata che anche negli eventi sportivi, vabbè, una cosa che è successa anche quest'anno, quindi forse porta fortuna, nel 2010, 14 anni fa, in questa giornata l'Inter diventa campione d'inverno, come è successo domenica scorsa, quindi insomma la storia si ripete nel campionato 2009-2010, appunto con 8 punti di vantaggio sul Milan, nella giornata del 10 gennaio, che molto probabilmente quindi era una domenica, presumibilmente, l'Inter diventa campione d'inverno, 14 anni fa, domenica appena passata, quindi tre giorni fa, ancora una volta, l'Inter si è giudicato questo premio che non esiste, abbiamo capito che in realtà tu vinci il campionato di andata, ma non è che divinti o vinci chissà cosa. 331-78-53-555, il nostro numero di Whatsapp, e ringraziamo Alberto che ci ha scritto, perché ci ha scritto Alberto poco fa, buongiorno Cristallini, e grazie Alberto, un particolare saluto e buongiorno a Fabio, con tanto di emoticos del dai e dai e tutta, grazie Alberto, ci proviamo. L'importante è che se siete in giro nella città in questo momento non vi facciate prendere al panico, in questo momento, così di solito, ci si può girare ancora abbastanza tranquillamente per ancora una decina, ventina di minuti, dopodiché, ahimessi, il traffico arriverà e come si arriva, ma per essere sicuri di non rimanere imbottigliati, per essere sicuri di sapere tutto quello che c'è da sapere per girare nella nostra città, beh, semplicissimo, no? Basta collegarsi con la redazione di Luce Verde, quindi linea a voi, Luce Verde! Vocation, Ozuna insieme a David Guetta, così la musica che ci porta un po' di compagnia, un po' di sveglia soprattutto, sveglia, 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 perché è il momento di alzarsi, è il momento di andare ad affrontare questa maledetta città che tanto ci fa penare, ma tanto, tanto, amiamolo, sappiamo quanto ci piace Milano, vi piace Milano? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, eh, ditemi, se non vi piace non scrivetemi, che per me mi innervosisco, no? No, va bene, no, se c'è qualcosa che non vi piace, scrivetemelo e ne parliamo, va bene, cercherò di essere calmo e non innervosirmi se c'è qualcuno che non ama questa città. Ecco, questo era il silenzio del fatto se c'è qualcuno che non ama questa città. Comunque, in realtà, come vi dicevo, questa città che tanto amiamo, ci dà anche tanto da fare e da disfare, come fai e disfare e tutti non lavorassi, dicevano, ok. Andiamo a leggere, da Repubblica Milano, la notizia che appunto esce quest'oggi sul Repubblica Milano, Milano, due nuovi grattacieli fatti passare come una ristrutturazione di edifici esistenti e quindi, due punti, la procura indaga costruttori, progettisti e pure i dirigenti del comune. Complimenti, tutto un bel malloppo. Cosa è successo? Allora, nel mirino ci sono le Park Towers, due torri di 59 e 81 metri affacciate sul Parco Lambro, autorizzate senza però un piano particolarizzato. Cosa dice Repubblica? Dice che, insomma, dopo l'ultima inchiesta sulla torre di via Stresa, l'urbanistica milanese finisce ancora una volta nel mirino della procura. Il presunto abuso edilizio, presunto, questa volta riguarda le Park Towers di via Crescenzago, insomma, in fondo là, in fondo dove passa anche la verde, vicino al Parco Lambro, da quelle parti là. Un complesso di grattacieli residenziali affacciati appunto sul Parco Lambro. Sono sei per ora gli iscritti, gli indagati, tra costruttori, architetti e anche dirigenti appunto di Palazzo Marino, perché il progetto, realizzato dalla società immobiliare Bluestone, comprende due torri di 81 e 59 metri e un terzo stabile alto una decina di metri. Ma tutto questo, da quanto risulta dalle notizie che appunto sono date sui giornali, era stato fatto passare come una ristrutturazione di edifici già esistenti, che ovviamente non erano alti così, non erano delle torri, quindi sono stati, diciamo, aumentate le volumetrie. Ma insomma, quello che mi viene da dire è che qualcuno avrà dato dei permessi o comunque qualcosa sarà successo, appunto, io non lo posso sapere, lo sarà, lo dovrà scoprire anzi la Procura di Milano che indagherà sul tema. Sullo stesso tema anche alcuni consiglieri già si sono un po' espressi in maniera, direi quasi sbigottita, ad esempio in primis ovviamente Carlo Monguzzi, Radio Carlo Monguzzi, che come sempre non può abbandonarci e quindi deve sempre, giustamente anzi, faro nella notte, faro nella nibbia in questo caso di questa città e sui suoi social sta seguendo la diatriba e sta appostato appunto, ha parlato di questo tema nei giorni scorsi sui suoi canali social. Carlo Monguzzi che dopo andremo a vedere perché ancora anche ieri invece ha toccato un altro tema, quello di San Siro che andremo a vedere fra pochissimo, ma che di fondo ha un tema più base, che gira e aleggia su tutta la città di Milano, che è un po' questa città che non sa se essere green oppure non esserlo, non sa da che parte andare, non sa se essere la città amica dell'ambiente, come fa e come dice, di essere in alcuni momenti, oppure la città amica del cemento, come dice in altri momenti, facendo certe operazioni come questa, come altre ristrutturazioni che abbiamo visto, come altre demolizioni che abbiamo visto, come altri musei che dovrebbero nascere, mi riferisco a Persellevariamonti, che invece hanno visto abbattere alcuni alberi. Insomma, questa, come vi ripeto, è la città che tanto amiamo, ma è anche la stessa città che a volte ci fa un po' storcere il naso. Pare Gali insieme a Madame, 7.33 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, e quindi ritorniamo in diretta, 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 è il nostro numero di Whatsapp, come potete scriverci per raccontarci un po' quello che siete facendo questa mattina. Grazie mille a Erika che ci scrive, buongiorno Fabio, ci volevano proprio Madame e Gali per svegliarmi stamattina, buona giornata, buona giornata anche a te e buona avventura, perché quello che avviene tutte le mattine, come è, tutte le mattine un milanese si alza e sa che dovrà correre per prendere il tram, oppure per prendere la M2, e sì, è così, è così, tutte le mattine ci tocca fare così. Torniamo un attimino a Carlo Monguzzi, perché? Perché prima di tutto, vabbè, lui è Radio Carlo Monguzzi, lo salutiamo, grazie, sappiamo che ha le sue spie che ci seguono, quindi dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo, ma insomma, in questo caso Carlo Monguzzi fa da agenzia stampa, perché ci propone sui suoi canali social, sul suo Instagram, il comunicato stampa del Comitato Referendum per San Siro. Perché torniamo a parlare di San Siro? Perché torniamo a parlare del referendum per San Siro? Perché i garanti del Comune ribocciano il referendum su San Siro e il Comitato si chiede, questa è incompetenza o malafede? Ecco che cosa si chiede il Comitato del referendum per San Siro, il Comitato chiede che venga istituito questo referendum per chiedere ai cittadini che cosa volete fare del futuro dello Stato di San Siro, lo volete abbattere, lo volete tenere, lo volete riconvertire, punto. Cioè, quindi un referendum, cioè in realtà il referendum è lo abbattiamo sì o no? Cioè, questo poi in realtà dovrebbe essere il quesito referendario. Sta di fatto che dopo la prima bocciatura il Comitato aveva fatto ricorso, seconda volta che i garanti devono ritrovarsi per deliberare e anche questa volta ribocciano il referendum, appunto uno specifico garanti bocciano il referendum abbocativo sostenendo il superamento, ovvero la non più validità, della delibera di interesse pubblico del Consiglio Comunale del 2021 su cui si basa tutta l'attuale azione dell'amministrazione. Cioè, il referendum veniva istituito secondo una, cioè veniva richiesto che venisse abolita una abrogata, abrogata appunto, una delibera del 2021 nel Consiglio Comunale e i garanti dicono ma quella delibera non è passata, è andata oltre, siamo andati oltre, anche se la abrogata non c'entra più niente, quindi no, non vi facciamo fare il referendum. Ovviamente, grande protesta da parte di tutti i comitati e sappiamo quanti sono in città, che sono contrari all'istituzione, alla costruzione di un nuovo San Siro e soprattutto all'abbattimento del vecchio stadio. Un tema, questo che è sempre un tema importante, interessante, un po' il tema della città che, come dicevo prima, non sa bene da che parte andare, da che parte stare, se essere una città green, se essere una città invece amica del cemento. Beh, io qualche tempo fa, sempre sui social, sempre su Instagram, avevo trovato un interessante reel, no? Un video, fondamentalmente, del gruppo di Fridays for Future di Milano, che proprio faceva, diciamo, una parodia di quello che secondo loro, secondo i ragazzi di Fridays for Future, avviene all'interno degli uffici del comune. Beh, sentiamo come funzionava, che cosa dicevano, che cosa succedeva secondo Fridays for Future nei uffici del comune di Milano. Bene, buongiorno a tutti, ci servono delle idee che spacchino, delle idee innovative proprio per la nostra città. Potremmo fare le Olimpiadi, le Olimpiadi invernali però, quindi anche sulle montagne, dove non c'è la neve perché è stata l'estate più calda della storia. Spacca, spacca. E aggiungerei che costruiamo un villaggio olimpico in città, a Milano, dove potrebbe starci un parco, no? Genio! Sentite, 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 facciamo i taxi volanti! Tu sei promosso! Bomba! Beh, potremmo fare una pista ciclabile su uno dei cavalcavia più percorsi da bici della città, che però è pericolosissimo perché le macchine vanno veloci e non c'è una vera pista ciclabile. Collega, adesso però rimaniamo con i piedi per terra un attimo. Ecco, questa è l'idea che Fides for Future si fa di quello che succede negli uffici comunali della città di Milano. Ovviamente il riferimento alla pista ciclabile è quella sul cavalcavia, sul ponte della Ghisolfa, non sul cavalcavia, sul ponte della Ghisolfa e ovviamente i ragazzi e le ragazze dei Fides for Future hanno questa idea. Della nostra amministrazione non sarà facile fargli cambiare idea. Calcutta, due minuti. I giornali di questa mattina, sto guardando adesso tutti i vari giornali, sia Repubblica, sia Corriere, ma anche altri, anche Open, questa mattina apriranno questa notizia, ovviamente sono tutti incentrati su Rosa e Olindo. Eh sì, perché è notizia della notte, notizia di oggi, che si deve riaprire il caso. Si riapre il caso e la difesa dice sono innocenti, speriamo, nella soluzione. Il primo marzo si torna in aula per discutere appunto la revisione del processo di Rosa e Olindo. È una notizia che tutti i giornali stanno appunto dando in primissima pagina, perché davvero nessuno si sarebbe mai aspettato niente del genere, dopo tutti questi anni soprattutto. Anche se ad esempio Repubblica apre proprio con un'intervista a Beppe Castagna che dice posso rifare il processo altre sei volte, quei due ne usciranno sempre colpevoli. Questo dice da una parte, che sta dalla parte dell'accusa, stesso, no, altro tenore, altro giornale, Corriere della Sera Milano invece fa parlare la difesa e Tarfusser dice speriamo nella soluzione. A me è proprio un altro convinto, questo spera, insomma, anche questa differenza. Comunque vabbè, 11 dicembre 2006, pensate, è così vecchio questo processo, il massacro, il famoso massacro di erba è dell'11 dicembre 2006 e oggi 2024, siamo di nuovo qua a riparlarne e appunto nel primo marzo a riaprire il processo. Questo è quello che si trova su tutte le pagine dei giornali, anche su Corriere Milano, anche su Repubblica Milano, insomma, tutto molto catalizzata, l'informazione locale su questo caso, in realtà a respiro nazionale, ma vabbè ci sta, sono quelle date, quei momenti che tutti noi giornalisti veniamo catapultati in quel mondo. In realtà ci sono altre notizie che vengono a che fare con Milano, più o meno, nel senso che appunto il Tribunale di Milano, ad esempio, sul caso Sant'Anché, apre la liquidazione giudiziale del Key Group. Eh sì, perché per i giudici il piano di risanamento proposto non è più realizzabile da quando è entrata in crisi anche Bioera, che è un'altra delle società del gruppo del Sant'Anché, che doveva supportare appunto il risanamento del Key Group. In passato il ministro del turismo, aveva avuto, il ministro scuolato del turismo appunto aveva avuto dei ruoli e delle quote nella società. Adesso in realtà è da un po' che non è più parte di questa società, però insomma la notizia la fa grossa. Andiamo avanti con un po' di musica. Adesso andiamo con Gaia, che ci porta invece lontano, perché ci porta fin laggiù nel sollevante dalle parti proprio di Tokyo. Gaia con Tokyo alle 7.44 su Crystal Radio. E' Gaia a Tokyo! E sembra quasi di stare a Tokyo, perché sappiate Tokyo è una città tecnologicamente avanzata, se non ci siete mai stati vi invito ad andarci, davvero uno dei posti più belli che ho avuto la fortuna di incontrare, diciamo, di visitare in questa vita, chissà nelle altre cose ho visto, ma non lo so, ma cosa di fatto è che insomma, se vi capita di andare a Tokyo andateci, perché davvero la città, super tecnologica, ma perché vi sto parlando di super tecnologie o diciamo scenari così futuristici, quasi alla Black Mirror? Perché anche Cascina Merlata diventa un po' così. E sì, perché è arrivato YAPE, YAPE o YAPE forse, non lo so, comunque è il robottino Rider, consegna cibo a domicilio dal ristorante di Cascina Merlata, dopo i pacchi e le pizze le porta a casa lui, quindi funziona così, nasce per una consegna di oggetti fino a 10 chili, quindi può portare 10 chili di roba, 10 chili di pizza non è male, mi faccio una serata forse con i cichili di pizza, sì dai ce la faccio, è in sperimentazione appunto nel quartiere di Cascina Merlata, l'80% dei clienti appunto lo utilizza soprattutto per il food delivery, da proprio anche dai ristoranti della zona, anzi ancora meglio adesso dai ristoranti che ci sono dentro il famoso Bloom, quindi tanti che possono ordinare questo robottino, lo potete vedere su Repubblica Milano ci sono delle foto, va in giro da solo, ha le luci, ha le rotelline, se ne va in giro va al ristorante, col QR code si apre il vano dove metterti il tuo cibo, questo poi si chiude, viene mandato a destinazione, quando ti arriva QR code inquadri, si apre il vano, il vano porta oggetti, no il vano porta pizza, in questo caso porta pacchi, dipende cosa l'avete ordinato, e vi potete gustare tranquillamente la vostra pizza, magari anzi è anche un po' più calda, è un bello co-inventato, speriamo l'abbiano fatto questo YAPE, Y-A-P-E, che vuol dire in realtà Your Anonymous Pony Express, perché sì è un po' anonimo, un po' troppo anche forse, ha due rotelle come dicevo, va in giro, c'è tutti i suoi bei sensori, va in giro da solo, e vi porta a casa quello che volete, questo è il futuro? Non lo so, sinceramente, se è solo questo il futuro, aia mia, signori miei, non è proprio, però speriamo che sia anche questo il futuro, beh, sicuramente è comodo, è una roba che può avere un senso, finché ce ne sono pochi, poi voglio vedere se, nei vialettini di Cascina Merlata, mettiamo 60-70 YAPE, che se ne vanno in giro, che fine faranno i nostri bambini, con le biciclettine spettasciati dai vari YAPE, speriamo di no, comunque, oh, se volete, prendetevi una casa, una merlata, ci sono quelle su Airbnb, le prendete, giusto per provare questa esperienza, di farvi portare da casa, dal robottino YAPE, la vostra buonissima pizza, che pizza prendete? Una Napoli? Quella con il, no, non lo so, che pizza volete? Una Napoli? Quattro stagioni? Quattro formaggi? Ho scoperto che esiste anche la cinque formaggi, l'ho fatto, penso ormai, questa è la modernità, vede, rifare le pizze, questa è la vera modernità, the future is the pizza, e adesso i pinguini tattici nucleari, con ridere. Ridere, pinguini tattici nucleari, i pinguini tattici sono uno di quei gruppi, che è molto generazionale, diciamo, c'è chi li ama, e chi non li sopporta, c'è chi non li sopporta a pelle, nel senso che gli guardi, diciamo, mi sono antipatici, invece c'è chi dice, no, mi piacciono tantissimo, no? Ma perché? Perché sono veramente un gruppo molto, molto generazionale, tanto che, mentre andava questa canzone, è venuta la nostra carissima Viola, la nostra producer, è venuta e corsa in studio, a mettersi sulle cuffie, per ascoltarla in cuffia, come ogni radiofonico vorrebbe ascoltare, e oltretutto confessandomi, che ha un tatuaggio addosso, con scritto ridere, proprio dedicato a questa canzone, pensate quanto, magari noi un po' più anzianotti, noi un po' più canuti, facciamo fatica a capire, una cosa del genere, ma ti sei tatuata, una roba di pinguini, tanti nucleari, e allora? Perché quanti di voi, non hanno il sole luna di giovanotti tatuati? Quanti di voi ci hanno scritto, vivere o bollicine, perché gli piace Vasco? Quindi, ragazzi, è tutto sempre la stessa storia, non sono meglio, non sono peggio, non siamo meglio, non siamo peggio, è sempre la stessa storia, la storia è ricorrente, la storia si ripete, per fortuna, in alcuni casi, un po' per stupidità, in altri casi, ma in questo caso, invece, è benvenga, anzi, che finalmente, e ci siano dei gruppi, che uniscano anche, un po' così, le nuove generazioni, intorno a, dei messaggi anche positivi, complicati a volte, magari da capire, ci sono dei passaggi, dei pinguini, che chi ha la mia età, non riesce a capire, cioè c'è poco da fare, o comunque che magari, storci il naso, su certe assonanze, su certi paragoni, che vengono fatti, o metafora, che vengono utilizzate, nelle canzoni, ma non è la nostra canzone, va bene, ma non per questo, va denigrata, o non va, compreso, capito, e anzi, ammirato, chi invece, questa musica, la segue, gli piace, e anche, magari, ne fa un po' di, insomma, migliora un po' la propria vita, con le canzoni. E Bee Gees, con Tragedy, alle 8 e 10 minuti, in questo istante, qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, mercoledì 10 gennaio, sono appunto le 8 e 10, e ci ha già raggiunto, un ospite di giornata, sono contentissimo, di averla qui con noi, Erika Olaia Andrade, eccoti qua Erika, buongiorno, e benvenuta a Good Morning Milano. Grazie Fabio, e Good Morning Milano. Allora Erika, oggi parliamo di un tema, molto interessante, molto importante, tutto nasce dal Covid, diciamo, e parleremo di Long Covid, però, faccio spiegare bene a te, che cos'è il Long Covid. Allora, il Long Covid, non è il nome, di una nuova patologia, il Long Covid, è un contenitore, di tante patologie, dovute all'infezione da Covid, e quindi, non c'è solo un tipo di Covid, per esempio, io soffro da quasi quattro anni, sono 1380 passaggiorni, che ho i sintomi del mio Covid, che è diventato un Long Covid, con problemi neurologici, e quindi c'è gente, che purtroppo ha un altro tipo di Long Covid, perché ha problemi di cuore, di coagulazione, quindi in ognuno di noi, si è rivelato in una maniera diversa. E questo è già uno dei primi dati, che rende anche difficile poi, gestire questa situazione, perché non tutti i Long Covid sono uguali, cioè, il Covid lascia dei strascichi, su alcune persone di più, su altre di meno, su alcune molto come te, ma magari in maniera diversa, che da altre persone ancora. Sì, infatti hai detto, una cosa importante, è molto difficile da seguire, da diagnosticare, perché io ancora dopo quattro anni, devo fare anche tante analisi, perché si sovrappongono i sintomi. Quindi, prima pensavano che la mia era una fibromalgia da post-Covid, e invece un reumatologo ha detto, no, questo è un Long Covid, e i tuoi problemi sono di un'altra natura. Però, purtroppo, io sento i miei compagni di merenda, purtroppo, per chiamarle così, tutte le altre persone affette, perché ci sono al mondo mille gruppi, io sono su quello italiano, che ha più di 60.000 iscritti, in America anche i gruppi, immaginate anche le cifre lì, è scandaloso, si pensa che ci sono 100 persone, milioni di persone affette al mondo, 100 milioni, e pensa che non c'è la conoscenza di questa malattia, c'è un gaslighting molto, molto forte, io ancora, il mio medico di base, l'ho cambiato ieri, fa fatica a credere, e non credere anche ci sono dei referti da neurologi, io, per esempio, ho preso parte da poco, sono arrivata a un gruppo di ricerca, un trial. Infatti, ma noi parliamo, perché per alcuni medici che fanno fatica a crederci, per fortuna ci sono quelli che invece ci credono e cercano di trovare una soluzione. Tu hai incontrato il Covid nel marzo del 2020, una delle prime, una delle prime calute. Che sfiga, e per quattro mesi, si è rimasta positiva? Sì, guarda, non posso dire per sfiga, perché purtroppo il mio esattore di lavoro non è stato corretto, non ha rispettato le linee guida del lockdown, che partiva il 9 marzo, tutti chiusi in casa, io sono stata costretta a andare fino al 16 in ufficio, io non sono un lavoratore essenziale, e quindi loro hanno giocato con la vita di tutti noi, perché se ero stata mica l'unica contagiata, non c'erano le misure efficaci, ci chiedevano all'ingresso dell'ufficio di metterci il fulardo, la sciarpa a modo di burca per parlare al telefono, io facevo un part time di 30 ore, immagina 6 ore al giorno con il burca a parlare al telefono, quindi queste erano le norme di sicurezza. Ecco, questo è il tema, nel senso che appunto marzo 2020 nessuno sapeva niente, forse bisognava stare un po' più attenti alle richieste che venivano fatte dall'alto, nel senso, chiudiamoci in casa e non andiamo in giro. Ma ne parliamo fra pochissimo, adesso un po' di musica, Annalisa con Movimento Lento insieme a Federico Rossi. Annalisa, Movimento Lento insieme a Federico Rossi, siamo qui con Erika Olaia appunto per parlare di Long Covid e dicevamo che insomma alcuni medici fanno fatica a capire, a comprendere e a crederci anche. C'è chi si vanta di non sapere, perché mi è capitato deve aspettare un anno per una visita e sulla impegnativa c'è L'urgenza? Non solo l'urgenza, il quesito, fatica cronica da post-Covid, o dolore cronico da post-Covid e poi ti dicono io non ne so niente, non ne voglio sapere, quindi c'è il negazionismo dell'on-Covid. Invece c'è chi per fortuna ci crede e anzi lo sta studiando, o meglio, anzi, forse qui non è crederci o non crederci, è andare a fondo delle cose, capire che cosa c'è sotto, no? Qualche medico lo sta facendo e tu al punto sei inserito in un trial medico a Roma, giusto? È molto complesso perché per andare a fondo, allora, c'è una parte che si sa in modo storico qual è l'impatto di un virus, di un'infezione sul corpo e noi non siamo stati seguiti bene perché tutti facevano no, ma lei si deve riposare, ma è stato un... cioè, tutte scuse così. E tu dici quella parte lì in realtà qualsiasi virus può portare a quella roba lì? Quando tutti perdevano l'olfatto o il gusto, io poi ho scoperto che per una neumonia c'era gente che 10-15 anni fa l'ha perso, quindi io ho perso, io ero in assolamento quattro mesi fra tre settimane senza nessuna cura a casa, avevo la polmonite bilaterale interstiziale, tre settimane in queste condizioni perché mio medico di base non credeva che avevo il covid, non mi permetteva di fare un tampone, ne potevo andare spontaneamente all'ospedale perché c'era il lockdown e se non lo faceva la richiesta al medico di base tu non potevi andare quindi io tre settimane lì lasciata a morire da sola a casa poi mi sono fatta 20 giorni di ospedale e poi due mesi e mezzo di hotel covid. Come è stata l'esperienza dell'hotel covid? Allora prima c'è la felicità di uscire dall'ospedale perché ero molto provata io non avevo mai condiviso una camera con qualcuno che non fosse stato della mia famiglia erano persone oltre noventeni ottanteni due persone in camera che sono state la maggior parte del tempo così che avevano problemi o di alzheimer e quindi io non ho chiuso un occhio in questi 20 giorni perché urlavano piangevano chiamavano ovviamente i parenti quindi era cioè io mi farei altri mille covid 20 giorni con persone in queste condizioni era troppo tutto poi nell'isolamento quindi non potendo vedere fuori potendo sentire basta qualcuno ma insomma con tutto quello che comportava con la paura delle maschere dei famosi caschi insomma una situazione complicata già le amici per portarti perché io sono andata in ambulanza mica che ho potuto fare la valigia per andare in ospedale quindi già qualcuno che c'era lockdown ma ha fatto la scappatella per portarmi i vestiti mi hanno fatto le schiscette chi poteva qualcuno ha cucinato del cibo colombiano per me ma così tutto un po' fai da te sì e con molta difficoltà perché la gente anche per andarmi a fare una spesa si doveva fare la fila come tutti e quindi ti posso portare qualcosa quando io andrò perché il cibo mancava molto l'hotel l'hotel dove dove sei stato che hotel è l'hotel Michelangelo che non esiste più perché è stato da quello vicino a stazione centrale demolito sì proprio davanti a stazione centrale per me è stata una cosa positiva nel senso che dopo l'ospedale poter avere una stanza aperta da sola farsi la doccia nella mia stanza dell'ospedale non si poteva fare la doccia le docce erano fuori era un padiglione ortopedico perché tutto arrangiato così per il covid e quindi si poteva uscire a fare la doccia ma noi eravamo impestati e non potevamo abbandonare la stanza quindi questo ti sembrava non ti sembrava vero perché non è che in hotel potevi andare chissà dove in hotel non potevi comunque lasciare la stanza giusto nonostante questo è stato quasi salvifico per te dopo l'esperienza dell'ospedale è stato le persone che ci hanno seguito sono state molto carine molto disponibili ci portavano il pasto davanti alla porta e noi poi dovevamo lasciare fuori la spazzatura nessuno poteva entrare in camera noi dovevamo fare il letto fare le pulizie ci consegnavano i prodotti per le pulizie quindi quello è stato certo una salvezza ma già lì io mi rendevo conto che se io provavo a fare il letto mi dovevo di nuovo rimettere a dormire perché la fatica era però dicevo sono positiva sarà quello tu pensi come è che hai iniziato ad avere il dubbio che non fosse solo quello perché dopo due mesi e mezzo io non mi negativizzavo cioè tu dopo due mesi e mezzo eri ancora positiva non eri solo stanca no non avevi solo mal di testa non avevi perso non fatto cose tu facevi un tampone e risultavi positiva guarda il covid proprio ti fa perdere la tua natura non ti riconosci più e quindi tutte queste cose erano strane per me ma già lì nell'hotel io vedevo che era non mi sarei ripresa così facilmente ma non a questo livello che stiamo oggi perché quando tu sei costretto letto bagno e io ho vissuto in una stanza quattro mesi il giorno che io ho lasciato l'hotel covid pensate che io sono andata col piumone le dottor martins perché si pensava di dover dormire nella corsia perché qui non c'erano letti e io sono tornata il 2 luglio a casa insomma un po' diverso e quindi Erika la situazione deve essere stata veramente complicata hai avuto modo però di conoscerti bene e soprattutto di capire quanto tutto questo si stava cambiando quando tutto questo stava facendo ti ha fatto perdere il lavoro prima di tutto sappiamo benissimo che appunto è stata la prima conseguenza da quella ma anche proprio cambiare tu non sono più io non sono più io infatti tu usi sempre questo guarda quando si diceva a marzo non si sapeva molto del long covid però si sapeva che poteva causare la morte per quello hanno fatto un lockdown mio exattore di lavoro non ha rispettato questo lockdown quindi io non rimpiango il lavoro che ho perso capirai se voglio stare in un posto così ma mi ha fatto perdere la capacità di lavorare di condividere con la mia famiglia io per anni sono tornata solo in Colombia dopo tutto questo patatrac l'anno scorso e quindi e anche se è isolato per me il lockdown e per chi soffre di long covid il lockdown non è finito il giorno che è stato interrotto perché io sono spesso a casa mia già ci ci sono quattro piani da fare insomma quindi d'estate e il giorno che stai molto male buttare la spazzatura è un dramma ma tutto questo però non è solo un dramma appunto lo è quasi quotidianamente ma per fortuna una speranza c'è ne parliamo fra pochissimo ne parliamo fra poco appena torniamo qui in diretta perché appunto un trial c'è sei scritto a questo trial e qualcosa speriamo che venga fuori o comunque si possa indagare sempre di più in questa direzione Francesca Michelin solite chiacchiere 8 e 32 minuti crystal radio 33178 53555 ricordatevi il nostro numero di whatsapp a cui potete scriverci e magari fare anche qualche domanda a Erika o raccontarci se per caso anche voi avete storie simili avete sentito di qualcuno che questo maledetto long covid ha reso una persona diversa appunto non sono più io dice sempre tu Erika per fortuna dicevamo se da una parte ci sono dei medici che insomma fanno fatica ad aggiornarsi a essere sul pezzo come così in maniera edulcorata lo diciamo ci sono altri che invece stanno indagando e un punto c'è un trial all'ospedale Gemelli Roma ci sono altre strutture private a Bologna vicino a vicino aspetta Bolzano adesso non ricordo il nome delle strutture no Bologna no scusate Modena ci sono altre cinque strutture loro io faccio parte dell'associazione Long Covid Italia e questo trial è stato presentato alla nostra associazione e così che io ho scoperto cosa stava succedendo e quindi però è un lavoro congiunto dei medici che si interessano per dare qualità di vita alle persone e anche della ricerca perché quello che ti dicevo prima una parte è storicamente sapere l'impatto di virus e di infezioni sul corpo l'impatto che ha questa è una cosa che già sappiamo in un certo senso che è stato studiato da quello storico si può prendere insegnamento ovvio c'era diciamo un 50% però pensa che questo virus è diavolico c'è un po' di HIV c'è un po' di tutto il peggio di questo mondo se ci volevano rovinare di sintomi di giocare sì anche di simiglia di somiglianza e quindi la ricerca sapete che è sempre zopica no e quindi ci sono per esempio in Europa questo trial è di Geneuro sono svizzeri loro abbiamo noi questa opportunità e ce l'ha la Spagna ok e quindi loro hanno individuato una proteina che è quella che causa la sclerosi multipla e altri e ogni tipo di decadimento cognitivo ok e io ho avuto la fortuna di poter fare questo test a settembre per capire se il covid l'aveva attivata in me pensate che quando una persona soffre un'infezione forte o ha un virus no che gli causa questo danno lo dirò con le mie parole non sarò molto scientifica diciamo che non siamo nessuno di due medico ma tutto quello che ricerca poi in realtà sui tuoi social sui tuoi siti così vai a mettere anche le fonti medico visto quindi insomma potete poi andare a indagare meglio è importante che la gente sappia che è appoggiato tutto a una ricerca quindi quando il corpo ha questo impatto del virus o dell'infezione nel sistema immunitario cosa fa deve aggredire per eliminare il virus l'infezione ma in questa lotta si crea si crea la tempesta citochimica e questa questa tossicità per quello che noi sembriamo tipo avvelenati non siamo efficienti per quello perché questa tossicità ti fa perdere i capelli ti crea un sacco di patologie e disturbi ma cosa fa crea delle proteine che nuociono la salute come la spike 19 o come questo retrovirus a cui io sono testato diciamo che ad esempio questa è la stessa che si attiva quando uno ha la la sclerosi multipla si chiama retrovirus HERB e io ho fatto questo questo test e solo così si poteva accedere al 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 trial alla sperimentazione ma pensa che si possono creare fino a 30 tipi di proteine diverse e non ci sono i biomarki per individuarle e soprattutto queste proteine quando si innestano appunto innestano poi una sorta di sintomi che sarebbero riconoscibili ad altre patologie e quindi poi ovviamente i medici non sanno da che parte andare e questo trial speriamo che possa portare a capire meglio questa mappa così complessa di tutti questi sintomi che voi avete e ricordiamo che poi tu Erika puoi avere un'altra persona con un covid può averne altri e un'altra ancora ancora ed è quello il problema perché manca la ricerca per creare questi biomarker in Italia non si poteva fare il test che io ho fatto ematico hanno mandato il mio campione a Toulouse e quindi pensa che è una super fortuna quando io racconto questo sui miei gruppi tutta la gente mi chiede ma dove la posso fare io vorrei farla e ti senti quasi in colpa a dire guarda il mio campione è stato spedito in Francia e normalmente questi analisi così specifici li fanno in Germania e in Svizzera ma la persona comune e tutte queste cose sono al di fuori della nostra portata pensa te io neanche la posso lavorare e quindi tu dicevi c'è anche un'associazione appunto che avete fondato in cui fai parte io sono cofondatrice a un anno siamo a un anno dalla fondazione ma si fa molta fatica a portarla avanti perché tutti stiamo male e quindi non si può fare non si possono fare le cose al ritmo che noi vorremmo e abbiamo bisogno quindi al ritmo delle persone che non sono efficienti si portano avanti le cose però è una grande missione l'associazione è nata la fondatrice è stata la desiderata giustamente Morena Colombi che è lei che ha creato il primo gruppo Facebook in Italia e infatti abbiamo più di 60.000 follower e giustamente per poter avere dei risultati c'era la necessità di creare un'associazione anch'io nel mio piccolo nel 22 durante la Design Week ho presentato la mia iniziativa inclusiva che si chiama Non Sono Più Io perché io sono diventata attivista digitale ecco un altro di quei problemi che tu spesso racconti è il fatto di non sembrare malati adesso vi invito a collegarvi con Milano a rivedere sui social questi momenti qui di fianco a me è una bellissima donna in piena salute a vederti così e dice questo è uno dei grossi problemi nel senso che poi la gente non ci prende sul serio in un certo senso tantissimo magari meno male che non si vede diciamo oddio uno non sa cosa è meglio o peggio io per esempio purtroppo la gente mi vede così ma io ho delle sempre molto elegante soprattutto molto di stile devo dire oddio col poco contatto che puoi avere con le persone magari ti impegni un attimo sono sempre in tutta casa è proprio un problema questo è certo perché secondo me è anche una cosa purtroppo la gente non è preparata per accettare la malattia altrui quindi io avevo io ancora soffro di alopecia è forse diventata areata quindi quello che cade non ricrescerà più io ho perso tutti i capelli quindi io ancora ho la pelata io ho i capelli ricci e quando sono in pubblico certo cerco di non far vedere però io ho preso 10 kg in assolamento ero gonfia ho perso la massa muscolare perso quindi preso 10 kg e perso la massa muscolare quindi hai un corpo che non ha forma è una cosa così perché in assolamento 4 mesi immagina era una forma fisica terribile e cioè neanche così ci sono ma che puoi fare molto per rimettere in piedi perché immagino che tu nella palestra non potresti fare più di un minuto e mezzo di roba io sono snella adesso agli occhi delle persone perché tipo nei primi due anni avrò perso 5 kg poi nell'ultimo anno e mezzo e sono miracolata per questo ovvio io mi impegno nel mio piccolo in fare però c'è chi neanche se può impegnare perché per esempio ci sono tante persone che soffrono di obesità sono stati colpiti particolarmente dal covid e poi soffrono un gaslighting terribile perché le dicono no tu stai male perché sei obeso e non sono curati che è una cattiveria terribile e intralciare il percorso di guarigione di una persona per esempio pensate in America la loro popolazione ha questa tendenza purtroppo per lo stile di vita e io vedo le testimonianze delle persone del mio gruppo americano e ti spezza il cuore beh guarda chiarissimo poi su quel tema lì sarebbe dovuto aprire un capitolo sul fatto dell'andare da un medico che ti venga detto ma è ovvio lì è obeso e quindi ne so qualcosa e poi scoprire che magari le cause erano altre l'obesità in quel caso non c'entrava obesità che andrebbe comunque curata si sa ma una malattia non è così semplice è una malattia forse non solo fisica mi viene da dire perché molto probabilmente se io sono così ciccio forse lo devo anche un po' a quello che ho nella testa mi viene da dire ma va bene andiamo avanti continuiamo con i Maleskin insieme a Valentine qui alle 8.41 su Crystal Radio Maleskin Valentine 8.45 minuti continuiamo a parlare con Eric appunto abbiamo parlato del tale abbiamo parlato di cosa significa avere il long covid ed essere appunto vittima di questa tragedia mi viene da dire proprio tutti gli effetti tutto questo anche delle ripercussioni economiche non da poco ed è per questo anche che tu hai aperto una campagna di raccolta fondi giusto? sì io sono stata costretta a aprire una raccolta fondi perché purtroppo il mio esattore di lavoro non ha voluto fare la denuncia dell'infortunio lo ha fatto dopo nove mesi che mi avevano chiuso le pratiche con l'INAIL il sindacato non è stato efficiente non ha fatto bene i ricorsi io a questo punto dovrei fare la causa l'INAIL ma ci vogliono consulenze medico-legali che non sono alla portata di una persona che non lavora ho chiesto anche come si chiama il gratuito patrocinio a Milano non si trova nessuno che lo vuole fare volentieri sono capitata a Brugherio ma in un anno il mio legale non ha fatto assolutamente niente neanche quando le ho imbeato la disdetta nel 2022 mi ha risposto la cosa che prima mi dicevi è che tu ti sei trovata a dover fare questa tu magari non sei neanche contenta di dover fare questa raccolta fondi in un certo senso ma hai scoperto che c'è chi deve fare di peggio cioè fare una raccolta fondi per io adesso lo faccio con un altro spirito ma la decisione non è stata facile perché io da quando sono una ragazzina che lavoro vivo in Italia dal 96 studiato lavorato non sono la figlia di papà né la fidanzata di qualcuno o sempre mi piace lavorare adoro lavorare mi manca il mio lavoro quindi il non avere l'autonomia di pagare la tua voletta della luce il medico per cercare stare bene i medicinali che ti servono è molto frustrante perché qualcuno ha giocato con la tua vita no quindi poi potevi fare la denuncia l'inail no perché paga poi l'inail non pagavi te quindi invece riducono a una persona in questa condizione no di perché c'è una cultura di scaricavarili dell'istituzione da far paura perché inail dice che è un caso IMS IMS dice il contrario e tu mentre crepi perché se non hai i mezzi per andare avanti che hai delle discapacità come fai però poi devi superare questa cosa perché io sono una persona che può apportare tantissimo alla mia comunità alla mia famiglia ai miei amici però la comunità è interessante perché ormai appunto non siete più non sei più da sola Erika lottare un po' sì un po' in me troppo solo a volte per fortuna però c'è una comunità anche siamo in tanti che vorremmo lottare ogni giorno non siamo in grado non siamo in grado questo è interessante non siamo purtroppo con molta tristezza lo dico c'è che proprio non può farlo perché è stato magari intubato e non può più parlare e questo è molto difficile da accettare molto triste scusate ci mancherà ci mancherebbe ci mancherebbe capisco il tema non è semplice ti dice non riesce neanche a lottare per i tuoi diritti perché parliamo di diritti umani ragazzi io ho diritto a vivere sana felice come tutti io come possiamo se vogliamo dare una mano guarda ci sono tanti modi di dare una mano con gentilezza con le persone che magari come me tu dici ma questa come mai chiedere l'invalidità ma andassi a lavorare questa non vuole fare nulla io fortunatamente si sta al web se qualcuno mette il mio nome su google vede erica col ck e ve lo dico per chi lo cerca e vede il mio lavorato ok quindi io ero una designer artigiano ho lavorato nella comunicazione moda fortunatamente ringrazio i giornalisti la stampa italiana hanno sempre apprezzato il mio lavoro lo hanno supportato e lo hanno condiviso grazie al cielo perché se no poi sembra che sei una che non ha voluto fare niente è arrivata una certa tale deve chiedere la carità o non lo so è così quindi la gentilezza non giudicare capire che le persone anche le malattie che noi le patologie che noi abbiamo non sono facili di diagnosticare i sintomi si manifestano ogni volta in un modo diverso quindi bisogna credere alle persone perché io mi ritrovo in questa situazione perché il mio medico di base non mi ha creduto mi ha lasciato a casa senza assistenza medica per tre settimane e mi hanno detto diversi medici tu ti sei giocata le difese immunitarie della tua vita e per quello che hai avuto una positività così lunga e tu non riesci a riprenderti non hai un sistema immunitario efficiente questo è successo perché qualcuno non mi ha creduto quindi alla gente bisogna crederli eh sì non è spesso la lancia a favore a chi non crede non è facile questo periodo tra intelligenza artificiale fake news gruppi di pazzi che vanno in giro a dire catere piatta non è facile però davvero cercate di indagare meglio le cose cercate di approfondirle su erica si trova tanto tanto materiale in rete anche su giornali importanti su giornalisti importanti che hanno scritto di te quindi insomma un po' di autorevolezza anche su chi ha raccontato la tua storia si può dare si può avere quindi insomma fidatevi delle fonti certe fonti che spesso vengono i tuoi che appunto ripeto per l'ennesima volta perché è importante vai a raccontare le fonti quello che tu ci stai dicendo quest'oggi ha delle fonti scientifiche sotto ma chiedetevi voi no allora io avevo 43 anni quando mi sono ammalata mi sono contagiata fortunatamente io ho lavorato in realtà che mi hanno permesso di viaggiare viaggiavo in tutta Italia per lavoro nelle città più vele andavo a New York a Londra una volta al mese a Londra spesso a New York ho girato in Spagna anche per lavoro tutto quanto quindi mi divertivo viaggiavo condivido il tempo con i miei amici perché io un giorno mi sveglio e non voglio più vivere e fare questo e voglio chiedere l'imbalità civile e stare lì a cozzare a casa mia cioè scusate fatemi questa domanda datemi la risposta e capire che appunto questo è quello che ha reso Erika non sono più io come dici te appunto Erika questo è quello che il Long Covid ti ha fatto e speriamo di poterti appunto aver aiutato un piccolo passo anche oggi avendo raccontato la tua storia Erika grazie mille davvero di essere venuta qui con noi a Godmone Milano grazie mille andiamo avanti con un po' di musica adesso e poi ci ritroviamo qui per i saluti cercate Erika col CK o Laia O-L-A-Y-A cercatela sui social cercatela su internet la sua storia è lì che vi aspetta non sono più io come dice lei e invece allora ti dedichiamo un po' di musica un po' di musica per svegliarci un po' di musica per passare la mattinata insieme in compagnia di Crystal Radio qui a Godmone Milano